Ciao a tutti e bentrovati. Oggi Chiesa Livorno Informa vi accompagna a conoscere la parrocchia di San Martino a Parrana. Ma prima ascoltiamo Monsignor Giusti che ci parla della commemorazione dei defunti. Monsignore, tra poco celebreremo la commemorazione dei defunti il 2 di novembre e lei è stato invitato anche ad una benedizione speciale quest'anno nei cimiteri di Livorno. Certo, è tornata a casa un personaggio illustre di Livorno, lo sappiamo tutti, il Presidente Ciampi. Abbiamo svolto recentemente i suoi funerali. La famiglia e la Presidenza della Repubblica vogliono che in questo prima anniversario ricorrenza dei morti con la presenza di Ciampi al cimitero della misericordia ci sia un'attenzione particolare. Volentieri ci ritroveremo alle 11.30 con le autorità cittadine per un saluto, una benedizione alla tomba del caro nostro concittadino Ciampi. È un'occasione felice e triste. Felice perché ricordiamo mamma, papà, un fratello, un amico. Triste perché le ricordiamo al cimitero. Però sappiamo che il cimitero è il luogo dove la Chiesa si ritrova, dove tutti ci si ritrovano. Perché i morti stanno tutti insieme? Perché la domenica ci si ritrova tutti insieme? Perché siamo un'unica cosa, un'unica famiglia, un unico corpo e dobbiamo allora cercare di comprendere come il cimitero è come la Chiesa. È il luogo dell'attesa, dell'incontro con Dio. In Chiesa si attende di incontrare Gesù nell'Eucalistia. Qui nel cimitero, in questa Chiesa a cielo aperto, si attende di incontrare Gesù nella risurrezione dei morti. Risorgeranno i morti? Ma questa è la cosa più semplice del mondo. Basta vedere cosa succede a Montenero. Morta, ma viva. E come viva la Madonna? E con lei tutti i Santi, il nostro Pio Alberto del Corona, Madre Teresa, Giovanni Paolo II non fanno altro che fare mille opere, mille grazie, mille miracoli in giro per il mondo. E chi fanno le cose? Le pietre o le persone vive? Secondo me le persone vive. E quindi noi vediamo dai fatti come il missario della risurrezione è operante in mezzo a noi. Quindi tristezza perché si ricorda mamma e papà, contentezza perché sono nelle mani di Dio e vivono per sempre. Don Cristoforo, sono cinque anni che è parroco qui a Parrana San Martino. Ci puoi raccontare questa parrocchia di paese? Allora abbiamo troppo, poco tempo per spiegare tutto del paese, però posso dire le parole cruciali che è una parrocchia fantastica, piccola, fra le colline, che vive come grande famiglia. Abbiamo questo privilegio delle piccole parrocchie che possiamo vivere come nella famiglia, dove la gente si conosce, dove la gente collabora, dove la gente si rispetta, dove la gente aiuta gli uni agli altri. E poi in questa piccola parrocchia la chiesa è rimasta come punto di riferimento. Purtroppo è una realtà dei piccoli paesi delle colline, che piano piano sono spariti i negozi, piano piano sono spariti i distributori, il bar, circoli, tutto quanto. E meno male che resta la chiesa che con le campane risuona, richiama e fa un po' la vita. Perché piccole parrocchie, cosa succede su piccoli paesi? Che la gente la mattina va a lavorare o a Pisa o a Ponte d'Era o a Livorno e la sera ritorna per riposare e dormire. Per questo anche ci sono le difficoltà di organizzarci come nell'attività pastorale, perché anche i nostri ragazzi, noi cerchiamo fra poco, dice la catechista, la sera per incontrarci, però la sera, poveracci, si assopiscono, dormono, oppure sono stanchi pensando che la mattina, prima delle sette, passa il pulmino che li porta a scuola. Comunque la realtà è da godere. Per un piccolo periodo ero anche il parroco nella Sacra Famiglia di Shanghai, e ci lo paragonano, sono realtà tutto diverse, le parrocchie grandi che ci richiamano ma anche ce l'hanno possibilità di più e noi nel nostro piccolo, ma stiamo proprio come prima dell'ingresso del paradiso. E poi abbiamo un bellissimo patrono, San Martino di Tur, chiamato quel santo del mantello, che ci insegna di essere misericordiosi, attenti gli uni verso gli altri, specialmente quelli che hanno bisogno. A tutti vorrei anche ricordare e invitare che 11 novembre festeggiamo la festa del patrono di San Martino, che oltre alla festa religiosa, San Martino ci porta vino nuovo e buon olio, la festa dell'olio e del vino. Cioè 11 festeggiamo con la presenza del vescovo oppure del vicario generale e poi anche nel paese, sulla strada, con le bancarelle. Siete invitati. Veronica, Adriano e Rossano sono tre componenti della parrocchia che si occupano del catechismo, del consiglio pastorale e dell'economato. Veronica, in particolar modo il catechismo, quanti sono i ragazzi e quali sono le attività che svolgete? Allora, praticamente ci sono cinque ragazzi che le stiamo preparando per la cresima e abbiamo otto di quelli più piccoli che si stanno preparando invece per la comunione. Noi, praticamente, per via dello spazio, che qua anche a Parrana non abbiamo neanche uno spazio per fare un po' di oratorio e allora il sabato ci ritroviamo, comunque sia facciamo il possibile. Ci divertiamo insieme, parliamo, perché oggi abbiamo anche bisogno di interagire con questi ragazzi. non solo metterli con un foglio o una penna, ma insegnarli veramente quello che Dio vuole che noi facciamo. Lo stanno facendo molto bene, sinceramente. Siamo molto orgogliosi, anche perché purtroppo, come diceva Don Cristoforo, questi ragazzi hanno molti impegni, che però da otto anni a questa parte, comunque sia, siamo cresciuti. Rossano, la parrocchia deve fare anche i conti e in un paese non è sempre facile farli. Diciamo che noi abbiamo la fortuna di avere il CEIS che praticamente mensilmente ci dà un canone d'affitto dove possiamo praticamente sostenere le spese della parrocchia, perché se no, onestamente, non ci si farebbe con tutta l'attività che vogliamo svolgere e che svolgiamo. Però diciamo che ce la facciamo e il Vescovo è molto contento della nostra situazione e anche il nostro parroco. Adriano, oltre ad essere un membro del Consiglio Pastorale, è un po' il factotum della parrocchia. Sì, e qui mi occupo un po' del giardino, delle luci che c'è dentro la chiesa a pulire, e poi sono più vecchio e sono di tutto più che dell'altro. Diciamo che è la memoria storica. Perché? Perché l'ho vista crescere la chiesa. E adesso alcuni appuntamenti per la prossima settimana. Mercoledì 2 novembre alle 9.15 la benedizione al cimitero di Santa Giulia da parte del Vescovo. Alle 9.45 sempre il Vescovo celebrerà la Santa Messa al cimitero della Cigna, mentre alle 11.30 parteciperà alla deposizione della corona sulla tomba di Ciampi. Alle 15, sempre mercoledì 2 novembre, la Santa Messa al cimitero della Purificazione. Infine alle 16.30, sempre di mercoledì 2 novembre, la Santa Messa sarà al cimitero della Misericordia. Domenica 6 novembre alle 8.45 il Vescovo sarà in carcere per presiedere la Messa e le Cresime ad alcuni carcerati in occasione del Giubileo dei Dei Tenuti. Sempre domenica 6 novembre alle 17 la Santa Messa con i Cavaliari del Santo Sepolcro alla Chiesa di Via del Bosco. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo tra 15 giorni con una nuova trasmissione. Non perdetevi le notizie sulla settimanalivorno.it. Ciao a tutti! Grazie a tutti!